Dovrebbe esserci Ok ci siamo Ci siamo ci siamo In streaming Sai che non capisco se c'è il temporale Cos'è non capisco Perché Non dipende se sta piovendo Eh non sento l'acqua Piovere in realtà Vabbè tu intanto invita Cioè dove stai Sì 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 Sono gioco Sono gioco Eh mo vaffa Addirittura la streaming C'è soltanto il 720 Tutta una chiavica Oh ma incredibile Ma cioè E' declassato proprio Mamma mia Un crash per rovinarti tutto Mamma mia Spero no che non mi tolga per sempre L'evolità era comoda Tenerla Già Non credo eh No Cioè Intimeremo che sto facendo tutte In qualità E' l'endorsement E' una cosa E' l'altra E' 50 punti Chi mi hanno tolto sicuramente Un po' più Il crash della madonna E' uscito Ma vaffanlucano Ma basta che usciva a Parigi Oh no Andava Quell'altro mancava Basta che usciva a Parigi Era un mix perfetto Che se forse piano piano La gente sta iniziando A imparare a giocarlo a Parigi Ok Left of the game Eh va bene Molto bene Ma guarda quei 50 punti Se veramente li ho persi Porco Giuda Sai quanto Quanto sono Quanto sarebbero stati comodi Quei 50 punti Allora Stagione 15 Lei chiusa 2546 Ok Ora Abbiamo vinte Quante ne vinte? 5 5 1 pareggiato E 3 perse E 3 perse Quindi 5 Meno 3 In totale è come se ne avessi vinte 2 Facciamo 30 punti 60 punti Quindi Sarò sui 5 e 20 Allora 2606 2606 Meno 50 Ritorneresti Precisamente A quel punteggio lì Appunto Appunto Non andresti 2600 Ma sempre 2500 E che palle Che ne pensi? Infatti 788 Con i 50 punti Come se il calcolo È come di Io spero solo Che nel placement Se non li tolga Non posso sparare altro Boh Soprattutto Devo vincere questo Eh sì Siamo costretti proprio Avremmo Avremmo Pure potuta Vincere Quella Con un regroup Sì Cioè Ma è Ma Va bene l'altro Ma questa cazzo Si poteva vincere Dai 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 È successo Quello che doveva succedere Parigi Deve capito Cosa deve uscire No Guarda Se ci metti Tanto tempo Ci ho fatto Tanto una Rebrizza A volte Mi sa che Qualcosa Non va bene Double CP Come minimo O è Parigi O una Double CP Quasi come Annamura Sicuro Purissimo Annamura Parigi Già anche il town Annamura Parigi Queste tre Map Queste tre Map Ci do Ero così felice Eh appunto Eri una persona Felice Eri una persona Ah già che sto vedendo gold Non mi piace la cosa Razzista No perché non voglio essere vicino al gold Devo allontanarmi quanto più possibile Da questa malattia Eh c'è ragione Madonna Oh Insta soldier Hello guys Ma cos'è sta Eh vabbè Con chi Stiamo a giocare Dai Con chi Stiamo a giocare Hai picco? Let's shoot For a new highscore Are you a pig? Are you sure? I was thinking that you was a hamster Hello? Ahmed was an hamster, not a pig Ok Ok, you fucking retarded, dude You did it, you did it I was thinking that you were a pig Your mama is retarded, bitch Uh huh Yeah, uh huh I can see your voice Dai, dai, basta, basta Come on, we have to win Come on, we have to win Come on, we have to win Perché sto qua con lui Come on, we have to win Fung up like a pig Eh Bona ok man mano è a destra di te, vado a destra ero troppo impegnato a cerca di Frank Alana che non ho visto quello vero sarebbe winnable in realtà infatti per adesso non vedo segni di cedimenti questa si che è stata predictata adesso come gliel'ho mangiata da dentro il muro, l'ho sentito che stava là dietro e gliel'ho mangiata wow vado 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 come on fight come on come on come on ahhh Ah vi prego solo di stare attenti ai bastion e tutte quelle cose lì Vado Sombra che stai? Eh dobbiamo fare un buon lavoro si di squadra Anzi, l'ho già fatto da adesso Dio di te È un warlock E' un f*****o wanker Ah, tu hai una voce È un f*****o Oh mio Dio È un f*****o È un f*****o È un f*****o Oh, è un f*****o Ma perché... No hanno risa Il basso non ce l'hanno? E' un dorbion Non c'è nessuno. E abbiamo due healers, per favore Usa il switch, andate healer Ah, non credo Non dimenticare un altro healer, ok? Sì, sì, sì Non c'è Pronto All beat Qualcosa là Vai, 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 ci sei? Eh, eh, mannaggia la miseria Sì, siamo tornati, sono crashato male E sto bestemmiando pure Ho perso tutto Con lo stream che ho riavviato ho perso la qualità dello stream Ho perso l'endorsement da 4 a 3 Ho perso sicuramente 50 punti E perderò anche questa partita Che ormai Vai, vai, ci sei? Ci sei? Vado, è sul punto, è sul punto, è sul punto No Come è potuto la cadera? Come è potuto la cadera? Come è potuto la cadera? Siamo lì Non so se non me li ho contati, sai? Non te ne ho contati Non lo so No, perché le... Sono andate molto bene Vabbè 100 punti in più Non so se gli avrebbe dati Perché comunque c'è una partita pareggiata Ti neanche conto di quello Non era perso Quindi... Oh, va bene, dai È meglio di niente Che cazzo... Ti dava 2,650 Dici? Non lo so Può essere come non può essere Non so se ti ne conta Mario ha detto così Ma... Non lo so Sono crashato E la partita è finita Non sono rientrato Secondo te conta anche nel replacement? Dovrebbe contare anche nel replacement Vabbè Eh conti Hai visto? Allora era 2,650 Ma infatti Ripeto Il replacement è andato molto bene Cioè sei vinte Ma sei vinte Che l'ho giocata abbastanza bene Una pareggiata Eh, è andato all'occhio Non lo so Tanto è così Questo account Cioè... Così E questo account si è crashato proprio Appunto Proprio quando... Avrei anche superato il season high Il carrier high anzi Su questo non sono mai riuscito ad andare oltre quello Vabbè Vabbè Che vado No 2,5 Che direi che ora me ne vado Vabbè dai vado anch'io Vabbè 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 Non ne fa niente Fa niente Pasta Anzi magari faccio giusto due altre partite Che... Poi ci vediamo domani Dai ci vediamo domani Ciao ciao buonanotte Ciao Almeno insomma Chiediamo la stream Visto che ho perso il... L'endorsement Che palle Che palle Che palle Allora le cose che oggi di più C'è il crash Perché 50 punti? Non capisco Cioè capisco a quello che... Che... Che riva la partita no? Ma... Cioè non è che era voluto... Non era assolutamente voluto Se solo il sistema potesse... Capire... Chi crasha e chi riva Il fatto che uno stia cliccando Esci dalla partita E invece uno che non lo stia facendo Sarebbe veramente il massimo Se si potesse fare una cosa del genere Che ogni volta Perdere così tanti punti gratuitamente E' veramente triste E... Quanti ne ho persi in tutta la mia carriera? Vabbè... bene bene per cui ci vediamo musica, hanno rotto le scatole, guarda, hanno proprio rotto le scatole, che cazzo di neo hanno rotto le scatole per cui ci vediamo non so non so come si non so ma non 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 to win oh wow blessure no devo riuscire a farci un altro po' di punti piano piano io volevo andare verso il 5, no non ce la farò mai perchè ogni volta succede qualcosa e torno al 3 oh oh ah bad one mission ain't over yet oh ah oh Grazie a tutti. 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 Much better. Ma per cortesia. Che tutto io ho fatto. Allora senza della parola. La gente che riconosce. Vabbè. Vabbè. Se non mi faccio questa notte le basta. Seppur sono un po' intristito dalla situazione del crash. Mamma mia. Mamma mia. ci riprova. Un po' come crea. Un po' come crea. Che se qui potrei usare Lucio. Si si diverte con Lucio. No. 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 alle spalle No, non posso rischiare in questo modo con River, ci devo di da sto desto. Ok, ora è vero, è vero, è vero. Oh Grazie 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 no no ah 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 non c'è ooo ooo no vabbè ragazzi io ve la stacco la streaming dai grazie per essere passati è andata così è crashato però perlomeno ci siamo piazzati dai non male poteva andare meglio appunto per il crash ma ok è andata buonanotte ragazzi ciao ciao